Com'è la tua famiglia? La mia è una bella famiglia. I miei genitori sono piacevoli. E mia sorella è molto bella. Sono fantastici. E com'è la tua famiglia? Anche la mia è una bella famiglia. I miei genitori sono molto generosi. E mio fratello è molto divertente. Sono i migliori.